Purtroppo veniamo dopo un giorno di lutto per il Comune di Montecorici in cui un nostro ospite oltretutto molto ben voluto dalla comunità montecoricesi, di Casa del Conte in particolare ha perso la vita in circostanze molto spiacevoli perché per farsi un bagno, per farla nuotata che era solito fare gli ha costato la vita e questo dispiace molto. Pone l'attenzione ancora una volta su quanto debbano essere meglio gestite le nostre spiagge con molta più attenzione, molta più cura. Noi facciamo il possibile però ancora non basta, non basta avvertire le persone che il mare quando è agitato è pericoloso noi quello è un tratto di spiaggia libera ben segnalato oltretutto però ci impegneremo a fare sicuramente meglio e mi dispiace oggi dover raccontare questa brutta notizia per una persona che ripeto molto cara alla nostra comunità.